Ciao, io sono la strega Merli e sono venuta qui per istregarvi. Sono qui per presentare la nuova attrazione di Gardaland, punto di non ritorno, sarà disponibile dal 2015 ma oggi è il giorno di Halloween, sono qui con i mostri. Ciao, oggi sono venuto a Gardaland, mi chiamo Fiorella e mi sento veramente molto bene, uno zombie perfetto. Decisamente un giorno mostruoso, ci mancava qua a Gardaland Hannibal Lecter, qualcosa da dire? Siete tutti morti. Come vedete siamo già in team, in tema lugubre. Proseguiamo sugli schermi di La TV. Ciao, sono Sara e siamo qua a Gardaland per divertirci per Halloween. Ciao, sono Kaira. Buonasera a tutti, stiamo per arrivare alla Valle dei Re, fra un'oretta circa cominceranno i DJ di Radio 105 e c'è un sacco di gente. Siamo nella Valle dei Re di Gardaland. Alle nostre spalle sta già iniziando il divertimento. Radio 105 regalerà lo spettacolo della notte di Halloween. Solo a Gardaland, notte di Halloween. E adesso il ritmo di una morte da morti viventi. Siamo in mezzo ai mostri. Alle mie spalle la Valle dei Re con il palco, tutto pronto per lo spettacolo. Continuate a seguirci nel nostro viaggio mostruoso. Pronto? Ciao. Niente, la puntata si conclude qua. Terrificante. In mezzo ai mostri. Un saluto da Lorenz e continuate a seguirci. Solo su La TV. Ciao da Gardaland Grazie.